Il comune in Giulianova ha lavoro per risolvere il problema legato all'emergenza loculi al cimitero cittadino. Come primo provvedimento l'EDD è optato per il recupero di 30 loculi, il cui affitto è scaduto e coloro che ne hanno soffroito per i loro cari non intendono rinnovarlo. Per questo motivo, proprio per far fronte a queste emergenze igienico-sanitarie e sociali, si procederà alle operazioni di estumulazione. Abbiamo trovato la soluzione, abbiamo affrontato una problematica che da troppi anni affliggeva il comune di Giulianova, sono stati liberati i primi 30 loculi e siamo al lavoro per addirittura arrivare a più di 200. Quindi sicuramente stiamo mettendo riparo a un problema che non era stato affrontato negli anni precedenti. È stata fatta anche della manutenzione importante lì al cimitero? Sì, è stata fatta la giornata patrimonio, è una manutenzione importante, abbiamo previsto delle telecamere, abbiamo cambiato i cancelli d'ingresso e naturalmente ci teniamo particolarmente affinché un luogo così importante dove riposano i nostri cari sia un posto sicuro. Quindi stiamo lavorando in tal senso, facciamo molti fatti, poche parole e continuiamo sulla strada del rinnovamento, sulla strada del miglioramento del nostro territorio e soprattutto stiamo cercando di fare quello che deve fare un'amministrazione, dare dei servizi ai cittadini. Siamo contentissimi del lavoro fatto in questi due mesi ma c'è tanto da fare e continueremo sulla strada che abbiamo intrapreso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.